ok cazzo finisco di caricare le quanto stai lorenzo con le mie parabagliette sto andando io a caricare ah stai caricando te mhm tu puoi venire quando vuoi perchè non schifo più sul mio trattore scusa perchè ci sono sopra io sto andando verso il mio no perchè la porti sul tuo portalo sul mio basta a posto prendi pure allora costa terminologia prendi qua fai la allora le mie barbabiette da zucchero eh ma vieni schifo pure sul trattore si sto finendo di scaricare la benna e arrivo la benna la benna ma con 3b o con 3b la benna la benna del 180 poi c'ho le galline in mezzo che non voglio schiacciarle comunque se ti interessa ivano c'è un cappanone da acquistare qua dove sono io per stoccarci le barbabiette le patate è un po' scomodo però ti porti i mucchi in farm ma poi arrivo al 4 aspetta da solo prendere il mio cattico dove stai adesso ho già io sono qua che sto facendo insilato sto facendo l'erba per l'insilato ma avete condiviso alla diretta e che ne so io non c'ho facebook e sono un po' troppo e tu non sai che mi mi però non ho qualcuno no guarda te posso sicurare non c'è ma vai sotto un altro nome scuola no no non c'era solo instagram sotto un altro nome ma facebook troppo non c'erò allora vengo molto dove anche sono schifo a 4 eccolo qua avevo un bel nome su internet ma me l'hanno bannato dopo poco sì 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 ma infatti ho caricato un altro carico qui del rimorchio mio nel tuo eh infatti sono solo ah l'hai spostato pensavo che andavi a scaricarlo è stato no 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 è tuo non mi permetto vediamo dove dov'è eeeh e ciao venga 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 puoi vedere dove sei dall'altra parte no vieni su vieni su vieni su vieni su vieni su vieni su vieni in giro che ti faccio vedere come si fa il conto terzista no come fai te vedi dov'è sto capannone che ti insegno fermati ti insegno stai bravo stai bravo stai bravo è questo qua il capannone mi fai se dire eh questo qua dicevi di capannone sì 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 stia bravo lei ti insegno io come si fa guarda in una passata fai tutto raccoglisi seghi fai tutto allora io sono dall'altra parte eh o le nuove eh lo so però è provo a vedere se c'è nessun altro sulla mappa disponibile ma non mi fa è bello però eh solo roba buona qua eh non scherziamo no questo è bello però è lontano c'è dove mi trovo ma no è anche poi tantissimo e insomma è la è beh insomma sì ci sta tutto eh ma poi non ho soldi ah sì lo vengo eh eh se vuoi ti presto io ti faccio un tasso d'amico 120% di interessi 100% di 18.000 euro no? sono sotto pari qui con la banca ma no no ma qua noi qua noi qua noi facciamo deficit facciamo manovre in deficit l'ho buona manetta facciamo bene allora lo butto per terra stiamo attenti termini perché qua poi ci prendono per psicopatici no lo sposto gioco a voi migliori aspetta che parla lui ma di che già lo sto spostando dalla mia fattoria e lo metto il vino vicino al terreno spianato perché qua e non riuscivo più a far manovra comunque altro che la guida satellitare ciao ciao rtk ok giova dimmi lori dietro al fienile ci sono delle barbabietole per terra le carichi sul piccolo damper le stocchi di fianco alla trincia dentro in capannone che non si rovinano ok perfetto grazie c'è già il john deere con la pala ciao ciao robin ciao 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 ma hai imparato qualcosa hai imparato qualcosa schippato su di me no io sono schippato no gian no no io 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 andiamo scaricare queste con il nostro case è della banca non è tu no il case è mio quello che non è mio è il è quello lì verde no no funziona che quello che non è tuo quello che è tu è della banca e quello che è della banca è della banca eh già aiuto aiuto andiamo a vendere il popolo che sono qua ormai la simulazione ha raggiunto livelli realistici c'è anche l'usuraio che presta i soldi a Ivano no no non è vero non è vero non è vero nego 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 mi dissocio mi dissocio mi dissocio io testimonio a favore se mi paghi bene io stai attento che ti metto in un pilastro di cemento ho fatto anche la rima ciò vuoi già metterlo da noi mettilo pure il pilastro è di sostegno com'è dentro è di sostegno così no dopo la maestra c'è anche lei il cemento di sostegno ma c'è, si chiama Alessandro c'è ancora che non lo sento più si andiamo perso è andato via Alessandro è andato in Albania no 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 pensi che si sforza a ridere Alessandro eh Lory si ha una risata potente esatto lo sai che ti caratterò tutto pure la luce di casa oh ho l'ho qua ma perché sei così rancoroso rancoroso che è italiano correggiuto scorreggiuto aspetta ma non è un termine vostro questo ah no è vero lo usiamo solo noi scusa vabbè vabbè io mi dissocio vabbè un termine che in Veneto è corretto quindi siamo a posto no no si usa si usa rancoroso tagaradus gay alessandroso però adesso non è per dire ma vedendolo girare più che albanese proprio è diventato un sinti tacci tua oh l'hai preso l'hai rubato no è una missione ma l'hai rubato quel robo lì la missione è rubare il vecchietto del quartiere la missione è rubare il vecchietto del quartiere la missione è di GTA eh la missione è questo qua che è il mio campo no no è lì che lo vedi passare con questo macchinino qua ma cos'è questo robo? la missione è tipo intimidazione no bravo no chiuso ale bravo concimami il campo che io poi compro bravo così non devo neanche spendere soldi ai fertilizzati cioè il più pesante è il peso del trattore alessandro infatti non va avanti ahahah esatto guarda che mi hanno equipaggiato tutto l'oro io non ho fatto un cazzo errore oh no è loro chi loro chi allora facciamo nomi e cognomi adesso bisogna mettere fuori nomi e cognomi esatto eh quelli del negozio ma quello negozio è è lì in prova non capisce una matta con il ragazzino vivo ah eh già andagli a spiegare come funziona il mondo non riesce a salire ahahah essendo spingere ragazzi qua spingere ma hai due cavalli e due ronzini 8 o due anni ci sono nella capina ahahah si è fermato boh si è fondato ragazzi o spingere oh 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 ahahah chi ha che situazione aspetta che vengo a spingerti io va intanto sono qua da parte quasi finito il tuo campo qua eh ma bisogna venire qua a spingere inutile adesso qua arrivo arrivo sono qua da parte che sono pieno così affondo anch'io facciamo presto ahahah olle allora vb g tac tac sac tac tac aspetta che affondo anch'io adesso eh eh è un poco più grande della bicicletta a questo caso qua il peso è veramente a mille kg allora e qua c'è io non pesto la cultura perché c'ho le gomme flottanti fluttuanti di razzi jet e qui non sfero il terreno non sfero il terreno ma non si muove più eh ma pure io faccio fatica a venire su un po' ripida qua la salita eh eh mi sa che lo devi spingere da dietro perché qua eh per forza perché qua prendilo da dietro no eh prendilo da dietro allora sti doppi sensi ahahahah fernandinho bocca del f... posti a te no bocca del fugo non è online stasera mi chi ha il t7 spinge tutto animale ah ma sei anche carico qui tutto carico c'ho la faccia tutto carico lui spinge lui va ah spingi spingi dai tri fossi va no no spinge su tutto anche i fossi ah che bello che macchina che macchina punta 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 dagli de tacco dagli de punta è buona la so rassunta salve a tutte le suore che ci stanno guardando ci teniamo a prestigiarle che Gianna è un praticante va in chiesa ogni domenica si si prende non una volta ma ben tre la comunione per essere sicuro che il cristo entri in lui una per i padri uno per i figli uno per lo spirito santo eh giustamente esatto per tutti e beve anche vino al prete minchia ci faccio la zuppa poi ci faccio il puccino come sei messo lorenzo è finito il mio almeno mi salto il pranzo la domenica schifo sul g1080 che ti do l'ultimo carico meglio della caritas esatto esatto io sono più meglio più meglio esatto più meglio no più migliori per l'esattezza esatto e anche questo qua di barbabietole eh sbarbabietolata spappapietole spappatiao ne hai altri campi da fare barbabietole ne hai altri campi da fare barbabietole non lo sapessi controlliamo controllessi 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 anzi altess salva con nome salva con nome ci sarebbe il 100 o meno quello che ne resta eh però io lo ne ho è di Ale ah io l'ho pagato quanti avevo allora e quant'era Gian? ehm 1.500 l'ettaro questo è 0.73 ettari ti dico subito quant'è allora aspetta oh Dio devo dare il banale fino all'ultimo centesimo che brutta persona ovvio andiamo in banca e ci facciamo questa fammi sti miei conti adesso chiedi 5.000 chiedine ancora ok 1.100 Ale ma tu hai il pienile no? 1.100 allora io sì sì e poi faccio andare allora quando finisco il mio non ho sentito non ho capito niente se parliamo uno sopra l'altro eh ma non c'è problema allora cos'hai detto? poi ti verrò a comprare un po' di fieno magari quando finisco il mio 1.100 hai detto? mhm ok è andato? perfetto grazie ok fuori dal mio campo adesso non lo rovini cosa? fuori dal mio campo perchè ti faccio pagare il parcheggio che è brutte persone sti e i clienti però si veramente io pianterei giù la rata e gli darei una sistematica a quel campo poi fai te non ho bisogno bisogno proprio vediamo un po' eh si no ma quando c'è sulle colture però no 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 adesso lo vendo per recuperare un po' c'è 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 un po' in una vita uno può perdere fino a 180 giorni andando a messa lo sapevate? per fortuna ho smesso dopo la clesima dopo 180 giorni buttati eh eh ma lì uno sceglie poi la sua vita come vuole lo sa life esatto eh la madonna non ci fai esatto no lori lori eh dato che sei lì vieno un attimo su prendermi un ribaltino che fa tuo cosa devi fare scusa? devo andare a tirare su il johnny che si è affondato? no mi sono ribaltato no mi sono ribaltato ditte demolizioni bracco chiameremo grazie se no me la gasp auto ribaltamenti bracco esatto no porca puttana no ho tornato un applauso scommetto che sei ribaltato no no sotto niente signori dio esiste raga di facebook dio esiste dove siete? quello è il karma raghi difendi raghi raghi difendi perché raghe non ce ne sono adesso i raghi dopo i bi raghi c'è raghi eh i bi raghi sono i suoi doppi raghi doppiamente raghi bi raghi ma non dovevo trinciare qualche campo io ma parco no basta ma guarda il johnny qua come è messo mi arrangi qua io mi arrangio ma come si arrangi no no guarda le vostre parti eh partosa mettiamo la freccia a destra tac tac mi ribalti a sinistra tac tac tiriamo dentro la freccia a destra tac ecco incidente con la macchina tac devo riparare il case tac no ma le strabine non passo con tre asti è inutile troppo sto ci passi ci passi ci sono passato anch'io ci sono passato anch'io ci sono passato anch'io c'è lì dimmi visto che sei da quelle parti mi fa un favore vai sul campo 75 no 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 bastardo sono più in diretta diretto o indiretta no aspetta fateli scarti porto a caso un attimo il case poi vado no ma che sta scherzando qua bello il tuo di case solo se mi guardi a che punto è se posso raccoglierlo ma non penso però guardo numero 75 ok un attimo che guardo un attimo che guardo un attimo che guardo un attimo che guardo dai è natimo dai è da punta quel campo abbastanza inutile che ho comprato non è ancora pronto no è d'erba è ancora verde devo diventare giallo per essere pronto alla raccolta e che roba è scusa non sapesse ho guardato dalla mappa cos'hai detto? ho guardato dalla mappa ed è a posto comunque ancora per il momento ah non è ancora fatto no domani probabilmente che roba c'è dentro Ale? no cosa mi sono preso dentro? un paletto e vai stasera si dorme al fresco nooo che po' Ale domani ti diverti a trebbiare vero Ale? eh eh Giova eh figurati oggi tra l'altro ho visto una case con i cingoli una bestia no grazie non è mio no però con una case con i cingoli con la barra da 5 metri penso fosse non era molto no infatti ti ho detto ma una roba un po' non sbocchi eh ah beh si eh era l'axel flow bella eh Giova come hai fatto? eh sono a mila gas il computer ce la fra la gioca eh ok ok ho capito vai dagli un colpo mhm dagli un colpo al finale aspetta aspetta te lo sposto this is the pine night pull pump papapum papapum pa breathapum ha successo più così la canzone ma vabbè copyright copyright strike eh stropi right night non era più così la canzone ma va beh porca no 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 e l'abbiamo editata migliorandola se la farò passare quante erba che si sta facendo su sto povero T7 da blu è diventato verde tirte le rose aspetta un attimo l'ora che salgo il suo giorno allora se riesci a girarti verso il terrapieno poi è più facile raddrizzarti guarda ce l'avevo quasi fatta divano vado a vedere le imprese dei due sto scaricando poi vado non so neanche dove sono se scobutate su per il terrapieno dovresti riuscire a girarti vai 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 no ok mi rabalto io però oh no 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 fermo 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 perfetto ok e abbiamo limitato i danni qui le mie galline morto erano bianche le mie mie grigie hai preso il 180 e le hai fatte nere si è vero che quando parte il 180 fumo ancora però a posto è Greta Thunberg friendly no ma davvero sono tutte nere ma i galli ma questi qua erano bianche io le venderei anche perché secondo me sono vecchie vedi quanti anni hanno che sono vecchi e poi ce ne crepano che sta facendo rumore ma che è questo rumore eh infatti qualcuno sta facendo qualcuno scorre già in diretta ma semola la semola di grano duro a casa sta facendo no no ma qua c'è qualcosa che non va nelle mie galline o magari è il vicentino che sta cucinando un gatto chi lo sa no 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 qua siamo gatto free le avete mangiate tutti no no ce ne sono purtroppo non ce ne sono più perché le avete mangiate tutti no è che io personalmente li detesto abbastanza ma niente di personale proprio non mi piacciono come animali fresco i cani ma perché Giova ma perché il rimorchio superava la vietola o perché con l'aglio ho votato ok ok ho capito no no ho sciolto ho sciolto eh betta vengo con 180 che mi agaccio il rimorchetto spero anzi uso 10-50 qui avrei voluto usare 180 avrò pazienza questo è più comodo prossimo upgrade passo dal T7 al T8 però eh che fai Alessandro? eh? che fai? eh sto aspettando un attimo da che mi sposto pisolino? che sono qua sopra di te non mi vedi neanche sì sì ti ho visto ti ho visto sta facendo la ruggine qua sopra il tuo tuo Deus guarda ma non scherzo nemmeno eh quindi può rivedere scusa dove c'è il finestrino sopra il tattuccio sarà sporco no è che in realtà secondo me ho preso qualche botta in tredicina prima a far sull'insilato va bene qua Giova allora dove siete che vengo anche io aspetta che gli tolgo quello devo spostare dal fianile no no stai di farm va bene qua allora botto lo lascio qua per ora così la cacciata al trattore almeno non si ribalta il rimorchio no vabbè ormai più che farming simulator sta diventando towing simulator rabalting simulator tanto vai anche le nostre grandiere senza tenere mi ha preso 180 senza tenere allora non parliamo non parliamo in lingue straniere che se no non possiamo mettere i sottotitoli cosa ho detto scusa adesso vengo a vederle tu e Lorenzo sono nere e anche le mie prima del 180 non erano nere è come è come è come after dominis prima di cristo ma ascolta ma il 180 che euro è? euro zero? euro meno dieci meno quattro meno quattro è il pre euro ma perché mi viene da pensare male è un bel trattore ma leggermente inquinante diciamo che è un come si può dire è un è un maiale che è uscito è un anti europeista è un euro proprio come sono belli quelli puliti si eh io li tengo puliti amico ma tu cosa fai? c'hai una spugna apposta? che shampoo usi? eh il il Nivea il Nivea si per la pelle ma la pelle la domanda è perché c'è un paio di stivali lì da parte alla strada dei porci dove sono le galline? le mie galline? eh giù lì non è che qualcuno fa come destra dietro la trebbia dietro la trebbia perché io ho visto anche un paio di stivali vicino alle pecore nella sua farm Ivano ci deve raccontare qualcosa? cosa ho visto? non ho capito cosa hai visto? c'è un paio di stivali vicino alle pecore ci deve raccontare qualcosa? a me? sì eh siamo in diretta non si può dire questa roba non è questa ragazza puoi solo immaginare basta perché ho visto che se no sul cemento rischia di scivolare immagina puoi vado a vedere se sono i miei perché non so se sono i miei di stivali Giovanni? bisogna metterci il webcam perché lì succedono cose strane Giovanni sicuro che sono te anche Giovanni magari sono i tuoi ieri sera te l'ho prestata le pecore vabbè siamo peggio che in Sardegna ormai ma dove è schia direttore non c'è niente da fare che mi è scappato Lorenzo sono 10 e 50 eh che parere non quello tuo ah ecco comunque non ha freni con la macchina via ma va schifo è come la prima volta che la guidavo prima è una nutria no ma non si ferma più possiamo fare le agrisoluzioni gli metti l'aratro dietro quando devi frenare pianti giù l'aratro che stai facendo qua mi sta caricando la barbavietola che le porto in magazzino se no se no ma ci si è tutto ma non mi ha detto che poteva starvi fuori la barbavietola no è un po ma non sempre esatto no le porto via in previsione nella realtà ci fanno un po' asciugare ma nel gioco si tengono sono già state asciugate qua nel gioco si è spurreggiata sopra si personalmente me ne sono assicurato personalmente ecco perché sono diventate marroni si prima erano le ho fatte marcire del tutto dove le hai letti dove? no prima erano bianche ma è coperto scusa si è del trincia è coperto no è Giovanni è vuoto la bed eh infatti non so c'è il lag mi sta aspettando che finisca il lag mi fa vedere dov'è il deposito Lorenzo guarda che dopo il lag c'è il fiume sta attento sulla destra che pirla dopo il lag c'è il fiume dopo quello c'è la bianera eh eh Giovanni Giovanni calma i tuoi istinti per piacere oh ma qui tra pecore allora cosa sta succedendo in questo server gli stavo ingroppando un rimorchio se vuoi sapere ah 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 si c'è un bel ma ingroppando un rimorchio mi piace ingroppare i rimorchi ah 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 se non metto posto il terreno qua non ti ripesci occhi che ci abbiano l'anello d'attacco e non è il coso chiuso ti prendi giù una legnata ora do un po' di sistemanza io vado a restituire i miei soldi intanto che li ho visti che li ho basta eh sono già i miei 3.000 io sto raccogliendo l'ultima erba di quest'anno adesso mi fai vedere dov'è il deposito che andiamo un attimo eh no un attimo eh un attimo sì tanto non riesce a caricare quello lì sì guarda no ragazzi devo staccare ma vado a scaricare questo intanto che è quasi pieno no vai con quella poi stacco vatti aspetto poi vado connessione ma dove vai ma chi sarai per la gare con di tanto meh no tinter ad aspettarti e poi laggi pure te ad aspettare la connessione e poi la no ad aspettarti e poi laggi pure te dai bastardo col sub per favore dai me la dai e non degeneriamo dai ragazzi ma intendevole vendevole chiavi della macchina in live tratteniamoci adesso devo fargli una edit al t7 devo mettergli sui fanali posteriori sand nude cos'è una mood pugliese esatto pugliese pugliese di gallipoli per l'esattezza dove non hanno pagato la cena perché c'era una bomba una bomba a mano qua bisogna mettere quel capallone sai quando si dice che il conto è una bomba hanno fra inteso hanno preso troppo la lettera toccato il soffitto però vabbè dai bisogna mettere qui i capannoni per le morde del capannone perché non puoi buttare la ventura eh sì allora la root storage se non sbaglio ci va col nastro bisogna mettergli il nastro davanti e gli fare il mucchio e il nastro butta dentro ma non è giusto no ma rimane un casino poi ah potete farlo anche sul vostro capannone se prendete un nastro glielo buttate davanti e lui lo butta dietro così è giusto poi capannone il capannone il capannone il capannone ci penso in due minuti un capannone due capannone due capannone due capannone ah se voi avete qualcosa dell'acqua con il laghetto a 50 metri sì ma come attiro su quell'acqua ma perché hanno problemi di lag è colpa del laghetto io venderete esatto troppo lag vi trasferite in una zona balneare non ci siete a posto eh Joe riesci a caricare Joe ma provo ancora una volta poi mollo niente il mio collega stasera è afflitto da problemi di lag c'è forse solo afflitto quello è afflitto da problemi nella vita non si sa cosa basta basta fuori dalle bovadi eh vabbè stacca stacca stanno tracciando stanno laggando ci stanno laggando dai che soffre il nostro amico cioè il mio collega il socio che farà tutto il mese sparirà se non piove il socio che si chiama rock'n'roll robot esatto da oggi in poi è rock'n'roll robot Lorenzo tu sei Kill Bill perché Kill Bill scusa non c'è niente contro Bill no il mio gatto si chiamava Bill stai insinuando che ce l'ho col tuo gatto no però soprannome se io sono ah beh si dai sono kamikaze io come è che mi chiamate eh kamikaze eh beh si ma basta guardare come va in giro eh ok eh ok quindi Kill Bill io ho avuto paura per la mia vita più di una volta allora non sei cioè si è arrivato su veramente come un caccio poi l'altro come è stato ieri mi pare che eravamo offline cioè che ci siamo incresati tre volte tre volte ho rischiato la vita eh ma era un sorpasso un sorpasso eri tipo ai 420 all'ora no no avevo 190 a carico ero un terzo un terzo lanciato ero un sorpasso ecco io ho notato mi sono dovuto spostare perché mi stavi lanciando via e mi sono buttato nel prato era neanche eh si ho visto e nel mio campo anche no quello era il mio ecco Ivano lo potremmo chiamare saltafossi efe e fatemi sapere anche a me come mi chiamate salta fosse salta fosse ufficialmente definito come salta fosse e già come lo chiamiamo però ah io è il ragioniere è il ragioniere quello che sa tutti i prezzi fracchia fracchia fantozzi fracchia no ragioniere fracchia ho rischiato appena adesso un ribaltamento in diretta è per forza con la benna alta carica eh si e poi ci sono le trappole anticarro ah qui l'avete fatto voi sotterreno ho 3200 di ping si l'ho fatto io e che sono ancora influenzato ai giochi di strategia quindi ci ho messo le trappole anticarro adesso io mi faccio un giretto fuori perchè ho 3200 di ping oh vuoi fare qualcosa di trasgressivo? vieni nel mio campo prova a rimanere con le ruote giù ma di sistemarlo è proprio brutto eh dovrò assumere Ale come ingegnere civico eh ma farglielo fare perché qua veramente è eh Ale è saresti interessato a sistemarmi una porzione di fattoria che è venuta fuori in una porcheria con la P R O C H E R I A maiuscola perchè vi servono tanti soldi perchè comunque scala tanto l'editor di gioco eh eh quello si ma che stai a dire? eh si la modifica del terreno è gratis? no no il Kaiser si la modifica del terreno costa pure cara per fare quel casino lì che ho visto che avete fatto un attimo ci vorrà un milioncino buono buono ma sei fuori eh prova prova poi ne riparliamo vedete come scendono va in giù che è un piacere beh se vanno giù bene allora mi ispira a provare prova prova fai una prova e vedi subito eh ma adesso non posso perchè mi da che non posso modificare intorno a questi edifici qua no tra un po' trovi l'acqua si stavo cercando il petrolio ma non l'ho trovato eh ma io devo fare un atto che sono quasi secco no cosa fate voi due lì che mi guardate dall'alto eh eh dall'alto in basso mi giudicate? io sono in pensione quindi ah ah guardi lì guardi lì guardi lì che passi per lì io l'avrei fatto in un altro modo così uè giovinotto così non va eh il famiglio bene giovinotto se l'avessi fatto io mi avrebbero chiuso dentro il cemento eh giovane sbassa che abbenna guarda eh ma se lo facevo io eh ma i miei tripi si faceva la mia cussita eh ma hai ai miei tempi ci scaldava la testa del trattore col caneo?e dopo ti ripisciavi?e dopo ci rimaneva il braccio attaccato a testa del trattore come t'è attaccato o se non gli indietro si è spaccate le braccia a fare quei lavoro da bestia Se hai voluto sapere ti devi andare a Cina In Cina adesso sei tutti moderni Se vuoi sapere vogliate Come si faceva una volta Arrivia Madonna santa quanto caspita di erba che sto facendo Eh lamentati Ti faccio andare l'impianto di biogas per un anno poi Eh lamentati Poi diventi ricco Spondato Poi mi allargo prendo anche l'altra farm di Wack Eh guarda guarda Non ci lascia niente da noi Cioè avete mezza mappa voi che volete Cosa mezza mappa ho solo un campetto Ti conto tercisti qua che sono cari come il sangue Si straguadagnano Ma cosa vuoi che ci guadagnavano se siamo poveri come dei poveri Eh beh se siete poveri come dei ricchi è grave Cioè tu è ricco qua Non ho mai visto un ricco povero E neanche il povero ricco però Il povero ricco no Vuoi per caso salire? Sì Ma si aprono le porte di questo Ah le fanno pagare fallo pagare Ah le non si aprono Hai chiamato Uber Ma ti chiudi dentro? Eh Uber Ma salito? Ah non riesco a capire Uber Eh lì 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 No eh Hai chiuso le porte? Ti sei chiuso dentro? Ma va Scendilo 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 Dal testino si è entrato Fammi provare Oh apri Oh È come una zarda Uguale Mentre le porte Tacc Niente lo riesco Ma strano Sei sempre venuto su questo Eh eh Prova a fare il giro dall'altra parte No No La vecchiaia Sono rotta Scusa No Non nientro Non nientro Non passo È stretto È sporco È sporco Dieta dieta Si mette a dieta Non ti passa È sporco e puzza pure Guarda Niente vai Sto fuori Prova Ah ah Non dico Scorso un bar E guida tu Eh no Non guido Devo trarre un'altra fattoria No ma sto qua Dai Ah ma se guido io poi Oh Posso il tettino qua Ah che bello Ah no Che arrivano macchine Ah no La stradina esterna Questa interna Questa strada è mia Sai Sì è uscito il mafioso che c'è in te Cacchio Stato mafioso Tutta cosa mia C'erai la coppola Non tocca niente nessuno Capisti Ah te ga coppola Tengo tutto chi do che vuoi C'è non passa nessuno Ciao agli Non ci sta nessuno No po' No No Ragazzi Non ci sta nessuno Non ci sta nessuno Non ci sta nessuno Non ci sta nessuno Sì è uscito Nez'è uscito Il mio Securio Il mio Il mio Si è uscito Il mio Il mio Si è uscito Il mio camaggi fieno già quando per sempre il signor altasera vuole mangiare il porcello l'umido no cos'era emma perchè il fieno contiene proteine e le proteine fibre ho trovato il mio trattore guardalo là che bello io invece ho preso la motosega sto segando più alberi io ah dove stai che vengo a vedere come stai allora sto albero di merda perchè non posso segarlo come faccio via il film lì non riesco ti ho lasciato giù il trattore così puoi ti trasportare eh no ma dove una palla devo entrare in un altro fattorino allora andiamo qui no non lo fa tagliare sto cane di albero dove stai oh passasse la macchina niente volevo chiedere l'autostop niente oh neanche una ah io pignan da te lascia per notta ah ma dove vanno avanti le macchine gaseppe notta 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 madonna ma che tagliamo un ricamino d'avena dai cristina d'avena infame oh ma io c'è un capo lì vicino al tuo eh tagli le mie piante allora la cristina d'avena è proprio infame oh magari si sta seguendo e tu dici queste cose tanti che indietro cristina d'avena e tvb ecco il soprannome per ale cristina d'avena ma ti vengo a picchiare fino in vento dai vieni non ti aspetto arrivo così ti porto la memoria esterna esatto però quello me la taglia gratis che manovra hai fatto per essere concio così qua? eh c'era l'albero che non riuscivo a buttarlo giù eh sempre gli alberi si sempre gli alberi è sempre colpa loro esatto è sempre colpa del pino mugo dov'è mugo? pino dov'è mugo? senti i maiali come maialano come maialano? se non mi veniva il termine tecnico ma lei maiala un maiole esatto quello una cosa del genere ti piacerebbe avere un toscano con noi? mamma qua tu rideremo io sono otto anni che sono in toscano eh ma non sei toscano? no però ho gli audio dei miei amici però sono ad alto tasso di bestemmine praticamente dicono tre bestemmine una parola si ci fanno concorrenza in effetti minchia ma questi siamo molto contrariati in toscana hanno anche molto inventiva fidati si più di noi si si questo mi tocca a metterlo sono più bravi in quello basta Erdo e scappa tutto? no allora c'è ancora fatto tutto quel campo lì è che sono pieno adesso lo porto in parma lo scarico e andiamo avanti indietro non andrà avanti viene a vedere quanta ce n'è qua Erdo e vieni a vedere eh ma c'è un caricante va bello no no ma tu Ale non hai idea di quante ne ho io io ho due trincee piene no io solo con questi con questo campo quanta ne ho fatto eh ti lo dirò bene lo sai tutta quella che già c'ho ascolta Gianni le stradine è coltivato questo a niente sto facendo più fatica no perché c'è un punto che non riesco a andarci mi ci pianto nella recinzione perché? eh perché ho la falciatrice davanti che è larga 3 metri e quando devo girare via con il culo ok cosa prendiamo per fare la ratura di questo prendiamo questo si sta field grass è spettacolare però c'è un cornuto te con la macchina però eh proprio un cornuto eh sì no ma praticamente la field grass è l'erba normale con una densità triplicata che bello sembra vera quasi una tripla densificata? no cioè è molto più densa come texture ma eh sì prova e te teletrasportati sul eh vieni qua sono su 17 lassumi teletrasporto se riesco vai lì sul Raiffeisen sta 3 è la parte punto vendita fai come fa sta 3 dai eh comandante non riesco a tetrasportarmi vabbè tanto si può infarmi stai lì vicino giusto ne abbiamo dei problemi vai 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 su 17 che la vedi ma io sono dato passaggiero apposta eh ma io sto devo scaricare infami c'è lì da parte il 17 vai a piedi ah fermo che succede? ok adesso vado a vedi? ragazzi io mi saluto no ti abbandono anche stasera la connessione sì è tanto impossibile giocarci ma è brutto tempo? non si stabilisce no ma non è il brutto tempo devo capire perché quando Ale tempestava a me pioveva e diluiava non mi ha mai fatto niente ma non è che degli aggiornamenti in corso qualcosa? no no il computer nuovo di Ale no non ha nessun aggiornamento niente 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 è nuovo allora ti ha paccato Ale Ale l'hai paccato? ehi è nuovo è nuovo veramente sei bravo che siamo in live non ho nulla e di fatto è per quello che volevo sapere no ma poi mica lo fa adesso quanto è che è il computer lo usi? va bene sì no non l'ho mai fatto non è non è c'è il computer ciao ma va non è del computer che cura no ma poi scusa ma che rete hai? che rete usa? no ma io scherzavo il router wifi del telefono si è usato quello eh ma che re cosa è? è stato andato no della tre ahi a tre vabbè ma c'è c'è tutto è la tre hai appena detto tutto che bella esperienza che ho avuto con quella bellissima ma sempre andato eh però eh ma va a momenti appunto la rete peggiore che ha ormai avuto personalmente va a momenti va da nessuna parte dove le altre vanno bene va mediocremente dove le altre vanno male non va proprio in dubbio e io me ne vado boh ragazzi è stato bello è stato un piacere buonasera un attimo tanto poi staccavamo la live ciao 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 tanto adesso io vanno quante che siamo in diretta per un po' non lo so sì possiamo che staccarlo lo so non lo so non lo so perché tanto sarà un po' stacco anch'io ma poi non perché stacco io però sono le 11 e io devo andare a letto no non c'è più tanta gente no hanno messo un recinto vediamo andiamo 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 a sfalciar un po' la vomito l'erba Ivano sì eh non c'è più praticamente nessuno va bene sciori sciori mi è stato un piacere buonanotte a tutti chi ci ha guardato e chi lo guarderà alla prossima diretta grazie a tutti